E' un'azienda che ha sede ad Orgali, il nome dell'azienda si chiama Poderia Teruia. Teruia deriva da una falesia che c'è presente nella montagna che incorniccia la valle dove ha sede il vignetto, che è una montagna calcarea e quindi diciamo che lo strappiombo è rosso e quindi rosso in Sardegna lo chiamiamo lui e quindi questo ha dato il nome alla cantina. Io credo che in Sardegna si stia iniziando a produrre della vera qualità, le aziende sono concentrate principalmente su questo ed è un dato, una valenza molto importante perché i numeri di produzione sono comunque limitati, quindi riferirsi al processo di elevazione della qualità è certamente un fattore di successo. Un consumatore sceglie il nostro vino perché sono vini che rappresentano la tipicità e il territorio della Sardegna con espressioni di colori e profumi della Sardegna appunto, quindi sono dei prodotti che hanno grande rispetto e estrema cura della tradizione nella lavorazione delle uve. Noi abbiamo tre etichette, un Canonau Doc, sono tutti dei vini barricati, un Canonau Riserva che è Quentu e poi abbiamo fatto un'etichetta che abbiamo realizzato, questa bottiglia che è un blend di un accostamento dei nostri vitigni principi di Sardegna, quelli che insomma pensiamo, quindi il Canonau, il Carignano e il Bovale Sardo e questo ha fatto la terza etichetta. Io credo che rappresenti il meglio la riserva di Canonau, quindi Quentu è l'etichetta che rappresenta al meglio il territorio.